E' caduta in una zona impervia ferendosi ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato la donna con il supporto dell'elicottero Drago. E' successo lunedì mattina a Battifolle nel comune di Arezzo. La donna infatti è scivolata cadendo in una zona impervia e riportando un trauma alla gamba. E' stata così raggiunta dai vigili del fuoco del comando di Arezzo che hanno provveduto ad immobilizzarla per poi verricellarla sull'elicottero per il successivo trasferimento all'ospedale San Donato di Arezzo. La donna è stata così infine affidata alle cure dei sanitari aretini.